Ciao, io sono Chiara, sto attraversando un brutto periodo Ciao Chiara, ragazzi come sempre nei commenti salutiamo Chiara e ovviamente ragazzi supportiamo la maestria straordinaria e mi sembra chiaro Vorrei parlarvi così da sapere che cosa ne pensate Vai, dici tutto, noi siamo qua per questo Ragazzi, penso di essere stata adottata No! Sto dicendo sul serio, stavo riflettendo su questa cosa da parecchio tempo Alla fine l'ho chiesta ai miei genitori il mese scorso Ok, ma perché hanno una grafica diversa sti video? Però hanno negato tutto, mi hanno detto, certo che no, non essere sciocca Che cosa te lo fa pensare? Erano entrambi arrabbiati Mia madre ha spesso l'emicrania Dopo quella conversazione è rimasta a letto con l'emicrania per... E la madonna E ho quattro giorni, ovviamente mi sono sentita in colpa Ma non gli ho creduto perché ho trovato moltissime prove che dimostrano il contrario Cioè che non sono i tuoi veri genitori loro due? I miei genitori, o meglio, i miei genitori adottivi Mi hanno dato tutta una serie di giustificazioni per ognuna di queste prove Cioè? Non mi hanno convinto Sono stata adottata Dopo che avrete sentito tutta la storia Mi farebbe piacere sapere che cosa ne pensate Eh sì, va bene, però intanto racconta C'è la... Lasciate che vi racconti un po' di me e della mia famiglia Ho 16 anni Quest'anno ho dovuto lasciare la scuola a causa del profondo impatto che questa storia ha avuto sulla mia salute Madonna, ha mollato gli studi addirittura Ma intendo tornarci al più presto Ah beh, meno male La madre non lavora Mio padre lavora nel settore immobiliare Ho un fratello Nel settore immobiliare col 2 Che ha 5 anni meno di me Non abbiamo... Quindi ho... Quella era 11 Ho problemi finanziari Quindi non c'è niente che non va nella mia vita E allora perché ti lamenti, scusami Siamo una famiglia normale Con giornate positive e altre negative Ho cominciato a interrogarmi sul fatto di poter essere stata adottata Dopo aver studiato genetica a scuola Entrambi i miei genitori e mio fratello hanno gli occhi azzurri E tu no, vabbè, non è che funziona proprio così, eh Ho gli occhi marroni Ho scoperto che non è una cosa normale Mentre studiavo per un esame Come non è una cosa normale, veramente? Genetica stabilisce che Quando entrambi i genitori hanno occhi azzurri C'è una possibilità del 99% Che anche il figlio abbia occhi azzurri Beh, ho capito Tu sarai l'1% Sentiti speciale Ma non lo so, c'è Ma uno si deve sempre lamentare nella vita 0,5% che abbia occhi verdi E 0,5% marroni E allora... Anzi, 0,5% Ragazzi, 0,5% Una possibilità ogni 200 E beh, ho capito Già di nascere le possibilità sono infinite Evidentemente tu hai avuto ancora più fortuna Ma che significa, c'è È quasi impossibile Ma non è vero Poi c'è il fatto che sono l'unica in famiglia Con i capelli ricci Vabbè Non sono riuscita a trovare informazioni precise Su questa cosa Ma considerato anche il colore dei miei occhi La cosa mi sembra molto improbabile Mia mamma ha i capelli lisci Mio papà ha i capelli lisci Mio fratello ha i capelli lisci E tu hai i capelli ricci Vabbè Se avessi avuto dei capelli ondulati Avrei potuto capirlo Ma il fatto che sono super ricci Mi rende molto dubbiosa Dopo che ho cominciato a pensare a questa cosa Ho scoperto tantissime differenze Sì perché giustamente dici tu Tra gli occhi E ti posso dire va bene Ma ho pure i capelli Dice Per esempio Mio fratello ha le fossette come mia mamma Sia mio padre che mio fratello Hanno un divario tra i denti Ok Lo so che pensate che io stia esagerando Sì penso di sì però Vediamo il discorso dove va a finire Perché ragazzi magari c'ha ragione Ma le unghie dei piedi di mio fratello Sono esattamente come quelle di mia madre Le unghie dei piedi Dai non è possibile Non puoi fare veramente questo paragone Sei fuori di testa Cioè L'unghia dell'alluce è più grande del normale Mentre Ma perché magari tuo fratello è sporco E non se ne taglia Boh Quella del mignolo Quasi non si vede Come ho detto prima Mio fratello ha occhi azzurri e capelli lisci Questo significa che condivide Delle qualità fisiche con i nostri genitori E tu invece no Non pensate che sia strano Che io sia così diversa Allora sì Sicuramente è strano Però Nel senso che ne puoi sapere Magari la genetica ha fatto uno strano giochetto Cioè se i tuoi genitori ti dicono Che non è così Perché Cioè O te lo stanno negando Perché magari hanno paura Di dirti che sei stata adottata Però Boh Ecco un'altra prova Mia mamma è sempre a dieta Ma non perde mai peso Anche mio papà ha dei problemi Con il suo peso Infatti Madonna Devasta completamente la Dopo che mio padre ha avuto Dei problemi con il cuore Il dottore gli ha detto Se non perde peso Il suo cuore Non ce la farà Ma come Ho avuto a seguire una dieta Ma non ha perso nemmeno un chilo Com'è possibile Eh perché se ne va di nascosto al McDonald's Ma che è Natale Che ci sono state tutte le offerte Si è mangiato pure i commensi Tuo padre Io non me la bevo La cosa che non perde peso Con la dieta eh Non lo so Rick Non lo so Mi mamma e mio papà Mangiano molto Hanno sempre del cibo A portata di mano Comunque raga Spoiler Quando ero piccolo Io ero pure riccio eh E ci sono delle foto Io avevo i capelli riccissimi Quando ero piccolo E i miei genitori Avevano i capelli lisci Eppure non sono stato adottato Però Mamma se hai qualcosa da dirmi Chiamami al telefono per favore Stanno sempre mangiando qualcosa Ma a me il cibo non interessa Alcune volte Quando vado a letto Mi accorgo di essermi scordata di mangiare Vabbè Questa è un po' stupida come cosa In realtà Dovresti mangiare perché ti serve E te lo sta dicendo uno Che oggi non ha pranzato E che non ha pranzato neanche ieri eh Quindi Ti dicono che mangio troppo poco Che cosa posso farci Vabbè Ho appetito Non riesco a sforzarmi di mangiare più di tanto Pugno Differenza del resto della mia famiglia Io vorrei prendere peso Tutti sanno che queste cose sono genetiche Se fossi Ma come scusa Se veramente è la loro figlia Non pensate che dovrei avere un appetito simile a loro Ma non credo proprio Ma non funziona così Scusami Ma non Alla questa Alla gli occhi ok Ti posso dire I capelli pure Le unghie già Eravamo proprio all'estremo Ma io non credo che l'appetito C'entri con la genetica Dubito fortemente Cioè Non è strano che io sia così differente No Cioè nel senso esteticamente Magari ok ma C'è un'altra cosa Che mi fa pensare di essere stata adottata Sarebbe Il fratello è nato con una fecondazione in vitro Ovviamente Nessuno me lo ha raccontato Ma l'ho capito da sola Quando ero ancora piccola Quindi praticamente Sua mamma Non può avere figli O suo papà Non può avere figli Quindi spiegherebbe Perché L'hanno adottata Una volta ho sentito mia madre che piangeva Sono andata a vedere cosa succedeva Era al telefono Non mi ha visto Stava parlando con mia zia Non ha funzionato nemmeno Mia zia Stavolta Abbiamo speso una fortuna In queste Sì sono curioso di scoprire Qual è il libro In cui è studiato Genetica Perché qualcosa di strano c'è Sto perdendo la speranza Non riuscirò ad avere un figlio In quel momento Io l'ho interpretata in questo modo Non riuscirò ad avere un altro figlio Ma quando Greve Ho cominciato a riflettere sul fatto di poter essere stata adottata Ho capito che mia madre intendeva dire Non riuscirò mai a fare un figlio da sola Mio fratello è nato due anni dopo questa conversazione Per questo dico che secondo me Magari i suoi genitori da soli non potevano Significa che mia madre ha continuato con il trattamento Ed è finalmente riuscita a restare incinta Ok Anche se non fossi imparentata biologicamente con mio fratello Lo amerei comunque moltissimo Vabbè ci sei cresciuta Chiaro è normale E anche lui mi vuole bene E se smettesse di volermi bene dopo Non credo Aver scoperto che non sono veramente sua sorella Non lo so eh Non Può essere Può essere Questa cosa mi spaventa molto Sì potrebbe capitare che ti dà dell'adottata E ti dice Vattene via Io non ti voglio in questa casa Loro sono i miei veri genitori Mentre tu sei Una che non c'entra niente Robbe simili tipo nell'erisse o cose del genere Secondo me potrebbe capitare Però chiaramente uno spera sempre in bene ragazzi Anche perché se no Ecco la prova più importante a cui ho creduto fino a questo momento E cioè Tutte le foto di me da bambina Partono da quando avevo già un anno Ecco questa Forse rispetto alle unghie dei piedi Troppo lunghe Potrebbe essere un indizio Una prova Non ci sono foto di quando ero appena nata E non ci sono foto di mia madre incinta Ok questo è grave Questo è grave Cioè non ci sono foto di tua mamma incinta di te La prima foto che ho È del mio compleanno Qui potrebbe cascare l'asinello eh Quello che mi hanno raccontato i miei È che le foto del mio primo anno di vita Erano salvate su un hard disk Che è andato perso durante un trasloco Sì certo E se ti dico che c'è l'asino che vola Tu ci credi no? Non ho mai avuto sospetti Quindi ci ho creduto per anni Eh colpa tua allora Ma seriamente Non hanno fatto stampare Nemmeno una foto del loro primo figlio Cioè non credo sinceramente Tu gli faccia così schifo eh Sicuramente l'avrebbero incorniciata E messa in casa da qualche parte Direi ma ma è normale Messa su un magnete per il frigo O qualcosa di simile Su un magnete per il frigo Mio papà mi ha detto che voleva farlo Ma quell'anno era stato molto intenso A causa della mia nascita Eh oh il lavoro Il lavoro È così Problemi sul lavoro E del trasloco in una nuova casa Eh ma ci sta E quindi praticamente tra il trasloco eh Non ha avuto modo di stampare una polaroid Pensa che roba Ecco perché non hanno pensato a stampare le foto Eh ma ci sta Una scusa plausibile sinceramente Un bambino crederebbe a questa storia E infatti Come ho fatto io per tutti questi anni Esatto Invece nello scenario che ho ricostruito nella mia mente I miei genitori non potevano avere figli dopo il matrimonio Quello è il testo per il covid ma vabbè Matrimonio Probabilmente mia mamma ha affrontato delle terapie anche allora Ma non è riuscita a restare incinta Eh sì è probabile È probabile che non potevano avere figli certo Mi hanno adottato Ma volevano anche un figlio fatto da loro Quindi E quindi Ho continuato con le terapie Come mia madre ha detto al telefono Hanno speso un sacco di soldi Ma finalmente Hanno avuto un bambino Ovviamente non si sono sbarazzati di me Quando mio fratello è nato E meno male Anche perché sarebbe stato veramente crudele E poco maturo credo eh Hanno continuato a crescermi Ma non ho forse il diritto di sapere la verità riguardo Direi proprio di sì Do la mia nascita Sì direi proprio di sì Tu mi sa che devi saperlo Anche se non mi trattano come se fossi stata adottata Non ho forse il diritto di sapere chi sono i miei genitori biologici Beh forse non te lo vogliono dire perché ci hanno magari paura O perché boh i tuoi genitori biologici non ci sono più Perché magari ti riempirebbero la testa di cose Cioè non lo so sinceramente Credo che psicologicamente Scoprire di essere adottati Non è proprio una cosa incredibile da scoprire Quindi boh Poi secondo me è soggettivo C'è chi la prende bene e chi male chiaramente Ma Ovviamente ho il mio diritto E io Chiaro è un tuo diritto se lo vuoi sapere Attenzione di scoprire la verità L'altra cosa che mi ha lasciata turbata È il fatto di non sapere dove e da chi mi hanno adottato E vabbè ma se ti dicono che non ti hanno adottata È ovvio che non Io riguardo a questa cosa Vediamo cosa ne pensate Da quello che sono riuscita a scoprire Esiste un limite di età per le famiglie che adottano da un orfanotrofio Questo significa che devi avere una certa età I miei genitori non avrebbero potuto adottarmi da un istituto pubblico Perché erano troppo giovani Quindi hanno scelto un istituto privato Vanno avermi adottato direttamente da una famiglia Ah direttamente Da una ragazza madre Greve La domanda è Da chi? Eh boh La risposta che mi sono data è Dai miei zii Come dai tuoi zii? Talvolta quando una coppia non può avere figli Chiede aiuto ad un'altra coppia all'interno della famiglia Sì ma dai tuoi zii mi sembra strano Cioè praticamente tu biologicamente saresti sua nipote quindi Aiuti una persona a cui vuoi bene E fai in modo che il bambino venga curato da qualcuno di cui ti fidi Non lo so Rick Mi sembra un po' Un po' cursed sinceramente come chat Non lo so Farebbe un po' Sarebbe un po' inquietante come cosa eh Perché penso che i miei zii siano i miei veri genitori Eh perché sei pazza Spiegacelo E tua mamma Ok quindi sua moglie ha gli occhi marroni Vabbè però Sì ok ma se vedi una prestata che ha gli occhi marroni Allora è tua madre Ma che significa Hanno tre figli Due femmine E un maschio Poteste vedere i capelli della figlia più piccola Sono certa che sarebbe I denti c'è i suoi effettivamente Esti d'accordo con me Perché sono anche più ricci dei miei Un'altra prova fisica Tutti i membri della loro famiglia Tranne mio zio Sono molto magri Vivono in un altro paese Ma non voglio dirvi dove Quando Ero piccola Venivano a trovarci ogni estate Il che spiegherebbe Magari sai la mancanza Ma non lo fanno più Perché penso che mia zia Che è probabilmente la mia vera madre Abbia accettato Ebbè Chi lo sa Magari ha dei rimpianti Può essere Magari si è pentita D'averla lasciata Sì Ho questo ricordo sfocato Sono seduta sulle gambe di mia zia Lei Che piange Piange mentre mi accarezza i capelli Greve Ma che ca Questo ricordo non è molto preciso Perché ero molto piccola Spero di non essermelo inventato Eh spero di no anch'io Ma quando ci li penso Mi sembra quasi di sentire le sue carezze Stava anche canticchiando una canzone Mentre piangeva Mi ricordo la melodia Ogni volta che mio zio chiama mio padre Gli chiede di me e di mio fratello Ok È sempre molto gentile con me Come stai? Mi chiede Hai bisogno di qualcosa? Azza Non posso venire a trovarti Ma posso mandartelo Cose di questo tipo Sì diciamo che sono molto premurosi Come zii Eh c'è Mio zio È il mio vero padre Un giorno lo scoprirò Non importa quanto dovrò aspettare Che dovrei fare ora? Eh Boh Non lo so Chiediglielo direttamente ai tuoi zii No? Chiamali di nascosto Quando loro vanno a lavorare Dico che davvero non te lo dicono Esiste una cosa chiamata test del DNA Anche esatto Sì 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 Ma ho bisogno Un campione dei miei genitori Ah già è vero Ho cercato di farlo segretamente Sì e come fai Mentre dormono Gli fichi il coso in bocca Ma nei film Sembra molto più facile Eh direi Cioè Quello che è realmente È come il tampone per il covid Gli lo devi infilare nel naso O il cotton fioc Lì in bocca Gli devi prendere la saliva Per esempio Per eseguire il test Si può utilizzare la saliva Ebbè Ebbè Come fai Gli apri la bocca a tua mamma Mentre dorme Deve venire a prelevare la saliva In prima persona E sotto Non è vero comunque Certe condizioni Questo significa che non posso inviare Una semplice gomma masticata Al laboratorio Anche perché come fai Dove la prenderesti Cioè Voglio convincere i miei genitori A fare questo test Come potrò guardarli di nuovo In faccia Se il test dimostra Che sono i miei veri genitori Eh Boh Chiedi scusa Gli dici semplicemente Tutto quello che hai detto a noi Cioè quello che hai pensato Effettivamente Che c'erano troppe cose misteriose E che ti sei voluta Togliere il dubbio Se i tuoi genitori Ti vogliono bene Non penso che ti cacciano Fuori di casa eh Non c'è modo Di tornare indietro Dopo averlo fatto Si vabbè Ti odieranno per sempre Pensateci Vostro figlio Pensa che voi Non siate i suoi veri genitori Vabbè ma ci sta Se ti sei fatta le tue paranoie È una roba normale Cioè E vi fa fare un test del DNA Eh vabbè Madonna Non sarebbe un dolore Troppo grande Non credo proprio Un dolore troppo grande E scoprire che tua mamma Scopre che ti droghi O che rubi E vai a fare le rapine Quello è un dolore grande Non dei pensieri Che normali Cioè Questa è la mia storia ragazzi Si che la vendono In quale fumetteria Perché vedo che è un giornalino eh Ora ditemi Pensate Che io sia stata adottata Secondo me Un 50 e 50 Cioè secondo me Il test del DNA Va fatto Perché Alcune cose che pensa Sono completamente Fuori di testa Tipo le unghie Troppo lunghe Dei piedi Che onestamente Non l'ho capito Altri invece Sembrano veramente Delle robe Che ti dicono Che ti fanno dire Effettivamente Potrebbe essere vero O sto esagerando Le prove che vi ho descritto Hanno un senso Si e no Si e no Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Potrebbe Ma perché il tipo Si fa tipo Lo squishy nella pancia Non l'ho capito Sarei felicissima Se poteste dirmi Che cosa ne pensate Riguardo a questa ipotesi Se volete vedere La vostra storia Sul nostro canale Potete scriverci E inviarci un'email All'indirizzo in descrizione Va bene Aiutatemi con i vostri commenti Secondo me è quello Cioè dovremmo scoprirlo Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti voi Vediamo che cosa succede Ma Secondo me Si è stata adottata